Easy Go State violando una proprietà privata La vostra presenza è un'infrazione di livello 1 Informerò la sicurezza John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? John! Mi serve aiuto John! Prima il drone e ora questo Che fortuna Finiamo qui e andiamocene Cercate del sangue blu Ce ne serve ancora Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Perchè a tutti? Perchè mai non siete come noi? Non volete essere di me? Grazie a tutti! 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 Amicia a tutti! carico, andiamo. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi, non lasciamolo qui. Non possiamo portarli, è pericoloso. Vengono con noi. So dove trovare altre parti di ricambio? Che vuoi dire? I camion sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Dove è la chiave? Là sotto, nel posto di controllo. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo, scappiamo prima che ci prenda. Questo camion trabocca di ricambi ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. State qui. Se non torno tra dieci minuti andate. Marcus. Vengo con te. No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Beste. Beste. Ma che cazzo avranno da bagliare? Forse il tempo. Odiano i temporali. Già. È io che volevo fare i miei figli in cappeggio. Peccato, che paura. Ma è che è ancora in zona 4? Così fa. Dovrebbe aver già finito. Meglio qui. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti